Sì! 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 Hai scelto la parte sbagliata Ma cos'è Iron Man contro Capitall America? Team Iron Man, Bagnaia, Moggia, Morbidelli, Minho Capitall America, siamo io, Budega, Bez e Speranti I due più forti sono nelle due squadre Capitano America, Civil War. Civil War. La brucia. Forza ragazzi, in pista? Stiamo mettendo il casco. Mutili, civil, vince. Ragazzi, oggi è una Civil War. Che facciamo? Combattiamo. Grazie a tutti.